Però oggi la chiamano la via Francigena. Ma non è via Francigena. Nessuna mappa sta scritta. Perché l'hanno scritta così, ma non è via Francigena. Ma no, la via Francigena è una che parla tanto di gente a parlare. No, si chiama in un altro modo. La via Francigena è quella che collegava Canterbury a Roma. Quelle erano altre vie, queste qua le nostre, che nascono molto molto prima. Le chiamano comunque via Francigena. Sì, le chiamano via Francigena per convenienza, perché ci sono stati di interessi economici e basta. Lo sviluppo poi, in effetti...